Enel Premia 3.0 è il programma fedeltà di Enel Energia. In un anno insieme abbiamo dato luce al tema della sostenibilità, ma a volte basta spegnerla per fare del bene all'ambiente. Per questo nasce Enel Premia Black Edition, l'attività in occasione della giornata mondiale dell'ambiente che ha permesso a migliaia di utenti di ridurre il proprio impatto ambientale, semplicemente navigando sul portale. Il segreto è dentro il tuo monitor! Convertendo le pagine bianche in pagine nere, i pixel del tuo schermo restano spenti, riducendone i consumi e risparmiando veri watt. Risultati In un mese, 60.000 utenti. Più di 4.000 punti accumulati. 200.000 watt risparmiati. L'energia giusta per scatenare 90.000 persone a ritmo di rock. In poche parole, Black is the new green. Guardando questo video hai appena risparmiato 9,5 watt. In un mese, le due 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 due